Nel canyoning non ci si cala in corda doppia, ci si cala sempre da un ramo mettendo l'altro ramo a tampone. Quindi noi passiamo la corda dentro alla sosta e poi con un 8 mettiamo dentro la corda e poi facciamo la chiave. La chiave è un tratto di corda che è svincolabile, perché io non so in che modo se la corda basterà per il primo che si cala. Per questo motivo il primo che usa il discensore su questo lato andrà giù con un fischietto e in un altro video vi spiego quali sono i comandi per ottenere più corda o per dirvi che questa corda è sufficiente. Quando arriviamo in acqua sfideremo l'altro capo della corda.